Nuova settimana, nuovo mercato nero di Mauriz. Questa settimana ci troviamo ai Draughts, precisamente a Draughts Autostrada e il mercato nero di Mauriz è molto vicino. Vediamo il percorso. Vi ricordo di iscrivervi nel caso non lo siete ancora per non perdervi il mercato nero di Mauriz quando cambierà posizione e contenuto la prossima settimana. Inoltre se volete supportarmi è attiva la funzione abbonamenti di questo canale a un prezzo bassissimo. Per quanto riguarda il percorso è molto semplice, da Draughts Autostrada andate al punto indicato e troverete il mercato nero dietro una roccia. Questa settimana nel mercato nero di Mauriz troveremo il cecchino leggendario Monocall, nulla di speciale se non un enorme danno critico, SMG leggendario Oldridian, nulla di speciale in generale, e infine lo shotgun leggendario Lob, molto carino in alcune specifiche situazioni, devo essere sincero.